Paolo Pezzati, nuovo coordinatore provinciale di SEL, alla luce del percorso congressuale, quali sono le linee programmatiche del vostro partito? Le linee ci vedono con una continuità rispetto al passato. Noi continuiamo a chiedere, a promuovere la trasparenza amministrativa, percorsi di partecipazione e di protagonismo dei cittadini, rinnovamento in chi ricopre incarichi istituzionali e poi la salvaguardia del territorio, creando sinergie positive tra agricoltura, cultura e turismo. Cerchiamo di voler mettere nel centro di attenzione anche il problema occupazionale. Ferma la posizione di SEL che rimane fuori dalla maggioranza? Sì, rimane fuori dalla maggioranza. Noi crediamo che questa esperienza si debba concludere quanto prima. L'azione amministrativa va a rilento, più di una volta vediamo le acrobazie che il capogruppo PD deve compiere per ottenere la maggioranza in consiglio comunale. Il vostro rapporto con il PD dunque? C'è un'area, quella dei civatiani, che vi vede con alcuni punti in comune? Siamo disponibili a confrontarci con tutti, non solo con il PD, anche con chi sta a sinistra. Si sono rinnovati gli organi, ci sono due nuove segretari, sia a livello comunale che a livello provinciale. Quanto prima vorremmo fare degli incontri con loro per verificare se esistono dei punti di convergenza a livello programmatico, anche in vista per le prossime elezioni amministrative. Grazie